Salve a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video, qui è il vostro Stark e oggi siamo in una nuova anticipazione dell'episodio 103 di Dragon Ball Super. Nell'ultimo episodio abbiamo visto la comparsa di Briep, una concorrente dell'universo 2, insieme ad altre sue amiche e qui si prepara una trasformazione per combattere i componenti dell'universo 7. Durante la trasformazione vediamo che C-17 colpisce un raggio per fermare la loro trasformazione e tutti si lamentano, persino Goku, perché vorrebbe vedere la sua massima potenza. Ma C-17 afferma che è giusto colpirli ora, visto che in quel momento erano tempoli. Alla fine però, dopo varie lamentere, decide di far trasformare anche le concorrenti dell'universo 2, trasformandosi in versioni molto più brutte, anche se gli altri del proprio universo le considerano più belle. Qui quindi inizia la battaglia, dove BF combatte contro Vegeta, anche se dopo un po' di combattimento Vegeta si rifiuta di combattere, perché la trova veramente disgustosa. Continuano i combattimenti, vediamo C-17 un po' in difficoltà contro le altre due concorrenti dell'universo 2, ma poi decide di fare sul serio. E quindi prima si sbarazza della ragazza con le ali, e poi si sbarazza della ragazza gatto. E qui possiamo vedere l'epicidità di C-17, riesce a sfruttare al meglio tutto il territorio e utilizza persino quel sole che è stato creato da Daishinkan. E qui Jumpa era un po' in dubbio se si potesse fare una cosa del genere, ma Zeno l'ha provato. Quindi C-17 elimina questi due componenti dell'universo 2, e poi l'episodio si conclude con BF, che si lamenta con C-17, e tra i due inizio sta per inizio uno scontro. Nell'episodio invece 103 possiamo vedere che come protagonista avremo finalmente Gohan, quindi possiamo vedere la sua vera forza, e probabilmente vedremo magari un attacco combinato con Junior. Egli sta combattendo contro i rimanenti componenti dell'universo 10, e da quanto sappiamo dalle anticipazioni, probabilmente l'universo 10 verrà illuminato proprio in questo episodio, che sia proprio a causa di Gohan, lo scoprime nel prossimo episodio. Bene ragazzi, questo era un po' tutto quello che è successo in questo episodio. Ci vediamo in un prossimo video, bella rada.